Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. La celebre attrice, nota per il suo impegno nel programma di Rai 3, Amore Criminale, ha scelto di condividere la sua storia per incoraggiare la consapevolezza riguardo a comportamenti inaccettabili. Barbara De Rossi si è fatta famosa grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva La Piovra, ma il suo curriculum comprende anche una varietà di altre produzioni di successo. Durante un'intervista, ha rivelato di aver subito una vera e propria molestia sul set del film Nosferatu a Venezia da Klaus Kinski. Il regista e attore protagonista del film. Durante una scena del film, invece di simulare un morso sul collo come previsto dalla sceneggiatura, Kinski le ha afferrato il seno, strappandole la camicetta e causandole dolore. Questo gesto inaccettabile e violento ha segnato profondamente Barbara De Rossi. La situazione ha provocato una reazione forte e decisa non solo da parte di Barbara, ma anche del resto della troupe. Kinski, oltre ad aver rischiato il linciaggio da parte della troupe, ha ricevuto anche uno schiaffo da parte dell'attrice. Questo episodio orribile ha lasciato un segno profondo nell'attrice romana, che all'epoca aveva solo 18 anni. A distanza di tempo, Barbara De Rossi definisce questa esperienza come orribile e ammette che se potesse tornare indietro. Non parteciperebbe a quel film. E tu, cosa ne pensi? Ricorda di iscriverti al canale attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Grazie. Ciao.